Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questa nostra presentazione che poi sottoponiamo ovviamente alle vostre valutazioni. Il protagonista di questa presentazione, di quest'opera d'arte digitale, La Maschera del Tempo, è il Teatro Verde dell'Isola di San Giorgio. Ma a me preme solamente sottolineare qualche punto di interesse, prima che poi i relatori, dopo il video, avranno modo di spiegarvi il dettaglio di questo nostro progetto. Beh, è la prima volta che la Fondazione Cini produce Ex Novo, quindi totalmente, un'opera d'arte digitale. E lo fa a 15 anni di distanza dall'avere invece fatto il facsimile delle nozze di Cana nel 2007. Un'opera che è tutta orientata al futuro e che usa foto, documenti, ma direi soprattutto architettura e paesaggio e quindi la straordinaria bellezza del Teatro Verde per farne, disegnarne, creare nuove visioni. Usando delle tecnologie avanzate, a dimostrazione che i temi della ricerca e della sperimentazione sono temi estremamente importanti per noi, ma non solo inserisce quest'opera, che appunto vedrete tra poco, in un piano più generale rivolto alla formazione, ai giovani, all'academy online dedicata alla digitalizzazione, che già da qualche anno abbiamo creato qui alla Fondazione Cini e che ha in questo momento un impulso di grande rilievo, avendo come docenti professori, esperti e tecnici della digitalizzazione che vengono da molte università italiane e straniere. Quindi la formazione verso ciò che il nostro tempo e la contemporaneità ci chiede di affrontare il motto della Cini è tradizione, non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco, e noi oggi del fuoco parleremo. E tutto ciò accade gratuitamente, come molte delle attività, quasi tutte le attività che si svolgono alla Cini. Un ringraziamento davvero speciale al curatore di questa produzione, che è Enion Bianco, che più tardi vi spiegherà alcune delle chiavi di lettura di quest'opera, a Mattia Casalegno e Maurizio Martuscello, artista e sound designer di quest'opera, e a Amin Farah, di cui mi scuso sempre per non ricordarmi il nome, che invece è il disegnatore dei costumi che compaiono in quest'opera. Ricordo appunto che i materiali con cui è stata costituita quest'opera d'arte digitale partono tutti dal patrimonio della Cini, dall'archivio dell'Istituto di Teatro Melodramma, diretto da Maria Ida Ibigi. Dicevo che a Enio Bianco va un ringraziamento enorme, insieme agli artisti che hanno prodotto quest'opera, un ringraziamento davvero a tutto lo staff di Archive e a tutti i collaboratori della Fondazione Cini che hanno lavorato a questo grande esperimento, e un ringraziamento del tutto speciale a Cartier, che lavora con noi sul Teatro Verde. Do la parola ora a Maria Ida Biggi, che richiama alcuni dei grandi eventi che il Teatro Verde ha ospitato. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Il mio ruolo, come sapete, io sono una storica, quindi ho, come dire, dato una piccola mano agli artisti, ma questo è il mio compito. Quindi vi dirò due parole, molti di voi, vedo ci sono molti veneziani, anche qualcuno che ha frequentato il teatro anche come artista, e quindi saranno cose note, ma insomma era giusto e necessario dare un piccolo, come dire, regesto della storia di questo straordinario manufatto. Ecco, questo Teatro Verde è stato iniziato nella sua costruzione nel 1952, dopo il grande restauro dell'Isola di San Giorgio e la creazione della Fondazione Giorgio Cini. E come restauro, appunto, anche questo teatro è stato opera dell'architetto Luigi Vietti, con Angelo Scattolin, ma quello che interessa a me è parlare della vita teatrale di questo spazio, non tanto della sua architettura, e quindi vi dico subito che è nato, e questo si legge nei documenti, destinato a spettacoli di eccezione, a spettacoli di altissimo livello d'arte. Ecco, quindi che questo spazio viene aperto, tra l'altro, in un momento particolarmente importante dal punto di vista storico, cioè siamo nell'estate del 1954. Pensate che la RAI ha cominciato a trasmettere nella primavera del 1954. Ecco, quindi questo lo dico per dire che ancora la vita teatrale, l'importanza culturale che aveva l'espressione artistica del teatro, delle arti performative, era pienamente, insomma, nella sua ruolo e nella sua funzione. E per questo, diciamo che questo teatro voleva puntare appunto a questo, a creare, come dire, qualcosa di culturalmente nuovo, di culturalmente molto attraente, e infatti punta su, crea dei programmi originali e soprattutto vuole offrire degli inediti accostamenti che da un lato, diciamo, si caratterizzano, si possono definire come straordinariamente nuovi nel panorama italiano, ma anche come un'espressione artistica di grande richiamo, di sicuro richiamo internazionale. Ecco, questi erano un po' i due poli su cui naturalmente nasce anche la Fondazione Cini, ma in particolar modo la programmazione di questo teatro si voleva basare. Per esempio, Gino Damerini scrive appunto nelle sue recensioni, nelle sue critiche agli spettacoli teatrali, che questo teatro, con la sua straordinaria efficacia tecnica e con la suggestione irresistibile di questo ambiente, di questo spazio, esercita una benefica influenza sulle sorti del nostro teatro nazionale. Ecco, quindi, che viene visto proprio questo luogo come uno spazio in cui creare qualcosa di nuovo, sperimentare. Ma diciamo che l'importanza del teatro verde nella cultura dello spettacolo del secondo dopoguerra sta proprio in questa capacità di, come dire, coniugare da un lato quella che è la tradizione teatrale italiana, che come sapete era un modello in tutto il mondo, con invece quelle che sono appunto la sperimentazione, la ricerca, diciamo, di innovazione tecnica e tecnologica. e questo fatto si trova, non a caso, proprio qui in Fondazione, dove c'è un luogo, e la Fondazione si crea proprio come luogo in cui fare ricerca, in cui fare studio, studiare la storia, soprattutto la storia dell'arte veneta e veneziana. Ecco, quindi, che lo studio storico si collega alla pratica scenica ed è proprio questo che, diciamo, è la novità, potremmo dire, di questo luogo. Quindi, diciamo, questa notevolissima funzione culturale permette appunto di creare degli allestimenti memorabili di prosa, musica e danza. Vedremo che poi la danza, nella seconda parte della sua vita, ha un'importanza notevole. Ecco, quindi, coniugare ambito internazionale e attenzione verso la cultura di Venezia, permette anche alla gestione del Teatro Verde di entrare in collaborazione con istituzioni e denti veneziani, come il Teatro La Fenice e la Biennale di Venezia, che hanno proprio questa caratteristica, cioè di nascere e di essere legati a Venezia, ma nello stesso tempo di avere un pubblico, diciamo, in tutto il mondo. Allora, il Teatro si inaugura l'11 luglio del 54 con uno spettacolo, questa volta prodotto proprio dalla Fondazione Cini, uno spettacolo che si configura, diciamo, che è stato scelto proprio per dare un messaggio preciso, uno spettacolo che si intitola Ressurrezione Vita ed è un testo sacro, un teatro sacro, una sorta di sacra rappresentazione medievale che viene, come dire, ripresa con nuove modalità, con nuovi modi, ma in cui il riferimento è storico e proprio questo. E si vuole fare di questo appunto un'inaugurazione nel segno di un'alta spiritualità religiosa, unendo quindi le arti performative con le arti figurative. Infatti, questo spettacolo era basato su una scenografia che riproduceva scenografia, costumi, coreografia, che era di Massin, regia di Orazio Costa, quindi tutti i nomi, come dire, che hanno fatto la storia, e proprio quest'idea di mettere insieme le arti figurative e le arti performative, facendo, come dire, uno spettacolo di voce e movimento, in cui anche l'arte figurativa aveva una importanza notevolissima. Subito dopo viene messo in scena, ancora prodotto dalla Fondazione Cini, Arianna, con le musiche di Benedetto Marcello, e questo credo che sia stato forse lo spettacolo che più ha stimolato gli artisti nel video che poi vedrete, ma non dico niente perché lo diranno loro. Anche questo spettacolo con regia di Costa, coreografia di Massin, direzione musicale di Gianandrea Gavazzini, con l'orchestra della Fenice, e grandi successo, grandi affluenza di pubblico. Poi, diciamo, nell'agosto entra la Biennale, arriva la Biennale, e viene realizzata al Teatro Verde una parte del XIII Festival Internazionale del Teatro con le Baruffe Chiozzotte, le Baruffe Chiozzotte di Goldoni, che si inseriscono, diciamo, in questa azione che proprio negli anni 50 viene portata avanti da tantissimi registi, da tantissime teatriche, quella di riscoperta del Teatro di Goldoni. Ecco, in questo caso, l'azione, diciamo, l'iniziativa di questo spettacolo nasce dalla compagnia di Cesco Baseggio che crea, insieme a Lina Volonghi, Alberto Leonello, Lauretta Masiero, Aveninchi, insomma, gli attori dell'epoca anche più noti, questa compagnia della Biennale di Venezia che poi sarà una compagnia che anche negli anni successivi cambierà nome, ma comunque resterà lo stesso nucleo di attori, sempre con Cesco Baseggio come protagonista, e porteranno sul Teatro Verde queste nuove edizioni di titoli goldoniani aprendo anche un dibattito molto interessante, cioè sulla possibilità di rappresentare i testi goldoniani anche in spazi all'aperto. Come sappiamo, negli anni 30, Renato Simoni aveva fatto goldoni nei campi e nei campielli veneziani, ma qui siamo in una situazione strutturale molto diversa, insomma, un teatro che si rifà ai teatri classici, ma che nello stesso tempo ha una possibilità tecnologica molto moderna. Ecco, ancora nella stagione di inaugurazione viene portato il teatro classico giapponese Noh con la Compagnia Imperiale di Tokyo e anche questo è un evento per l'epoca, perché il teatro Noh non era conosciuto all'epoca in Italia, quindi ha costituito un momento molto interessante e molto importante. Ecco, adesso il tempo scorre, non vi posso fare tutta la cronologia, ma comunque vi ricordo per esempio nel 1956 La Moschetta di Ruzzante con la regia di Gianfranco De Bosio. Anche qui siamo proprio molto all'avanguardia nell'epoca, perché Ruzzante si stava proprio riscoprendo in quegli anni e insomma anche l'idea di farlo anche questo in un teatro così era veramente all'avanguardia per l'epoca. Va bene, salto, perché... Poi negli anni successivi abbiamo per esempio la compagnia inglese dell'Oxford Playhouse, abbiamo compagnie come il Teatro Antoine di Parigi, il Teatro Nazionale Belga, ci sono i balletti, ecco, cominciano i balletti. Nel 1958, il corpo di ballo del Teatro alla Scala porta un Giuliette Romeo con la coreografia di John Cranco e con una giovane Carla Fracci che è la protagonista e che ottiene molto successo. Nel 1959, invece, il diciottesimo festival della Biennale è tutto mirato al teatro contemporaneo, alla drammaturgia contemporanea e anche in questo caso si sceglie il Teatro Verde come luogo delle rappresentazioni, per esempio, di un'Angelica di Leo Ferrero con Gianfranco De Bosio come regista e come interprete Valentina Fortunato Ernesto Calindri, insomma, siamo sempre ad un livello molto alto. Ecco, purtroppo, nel 1959 si chiude la collaborazione con la Biennale, quindi questo teatro non verrà più usato per i festival di teatro, ci sono problemi di agibilità, problemi, insomma, di gestione e quindi negli anni 60 questo teatro verrà usato soprattutto per fare musica, per fare concerti. Nel 67 c'è una gisella di Petipa, ma insomma, tendenzialmente l'attività del teatro diminuisce. Nel 75, tutti ricorderete, insomma, che ci sono stati nel giugno-luglio questi importantissimi incontri internazionali di danza con l'UNESCO, organizzati con l'UNESCO, dove tantissime compagnie di danza di tutto il mondo, hanno agito sul palcoscenico del teatro verde. Ecco, chiudo dicendo, facendo un ricordo, perché è doveroso, è stato un momento molto importante, nel 1999, Caroline Carson, che all'epoca appunto era, impersonava la Biennale Danza, decide di fare qui, alla Fondazione Cini, questa Accademia Isola della Danza. Ecco, e questo è stato un momento, credo, molto interessante, molto importante della vita teatrale e del teatro verde, proprio perché gli spettacoli che qui Caroline Carson ha messo in scena insieme al maestro De Luigi, nascevano qui, nascevano in isola, cioè c'era proprio questo laboratorio, infatti il primo spettacolo, parabola, era con 22 danzatori proprio dell'Accademia, con i costumi di Gianfranco Ferré, e l'anno dopo, nel 2000, sempre nel luglio del 2000, c'è questo Lightbringers, con le musiche di Philip Glass e le luci di Gigi Saccomandi, che hanno, entrambi questi spettacoli, hanno utilizzato questo enorme palcoscenico con degli effetti straordinari, io ricordo quello che aveva questo strato di acqua bellissima che poi, come dire, finiva con la veduta della laguna in fondo e in cui appunto Caroline Carson è stata bravissima ad utilizzare anche questi bellissimi costumi molto ampi, facendo degli effetti di danza e acqua molto, molto importanti e veramente straordinari. Ecco, io, proprio scusate la velocità per punti, io credo, dato qualche riferimento per la storia di questo teatro che ha quasi 70 anni. Ecco, quindi, adesso vi lascio al video e poi ci saranno gli artisti. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti di essere intervenuti. Un bel colpo d'occhio da qui. E ringrazio. Prima di presentare l'opera audiovisuale di La Maschera del Tempo. Di Mattia Casalegno e Maurizio Martuscello. Scello, ringrazio Renata Codello, segretario generale della Fondazione Giorgio Cini, Maria Ida Bigi che dirige l'Istituto per il Teatro e il Melodramma, Chiara Casarin, responsabile del sviluppo culturale della Fondazione e con loro la squadra che ci ha dato una mano fondamentale, Ilenia Costanza, Claudio. Il progetto nasce, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e i grandi sponsor internazionali sulla necessità di valorizzare il teatro verde. Nasce circa un anno fa con la decisione di produrre, come ha detto Renata Codello, produrre, non solo ospitare e di produrre un'opera di arte digitale in grado di evocare la storia, gli spettacoli, il presente e il futuro di quello che Catherine Hepburn ebbe a definire come il più bel teatro del mondo. Prima di sposare, prima di affidare l'incarico a Mattia Casalegno e Maurizio Martuscello, abbiamo valutato le opere di diversi artisti internazionali che operano nell'ambito dell'arte digitale. C'è da dire questo, l'arte digitale, proprio perché gli algoritmi sono prevalentemente algoritmi di tipo geometrico-matematico, è il trionfo dell'arte astratta, ci sono delle opere straordinarie. Però, proprio nella valutazione degli artisti da scegliere, noi abbiamo scelto appunto Mattia Casalegno e Maurizio Martuscello perché avevano in passato, avevano realizzato dei lavori nei quali si poteva apprezzare una narrazione comprensibile e affascinante. Penso per esempio al video left-handed, con il quale sono entrati in dialogo con le opere canoviane della Gipsoteca di Possagno. Penso anche agli Aerobankets, è un'opera di mixed reality, quindi bisogna mettere gli occhiali, la quale Mattia Casalegno proponeva un viaggio multisensoriale fatto di immagini e anche di assaggi perché praticamente si veniva ad assaggiare le ricette della cucina futurista. Questo progetto peraltro è stato anche premiato nell'ambito del Lumen Prize, che è uno dei due grandi premi internazionali destinati all'arte digitale e verrà riproposto in dicembre alla Miami Art Week, in occasione del Miami Basel, che si tiene appunto a Miami nel mese di dicembre. Allora, questa è la premessa della scelta. Poi da questo momento, immaginate fine dicembre, primi di gennaio, dal momento in cui è stato fidato l'incarico a Mattia Casalegno e a Maurizio Martuscello, il panorama tecnologico è stato proprio contrassegnato da una grande evoluzione che ha riguardato tutta l'arte digitale, in particolare gli strumenti creativi resi disponibili grazie all'intelligenza artificiale. Potrei dire che è cambiato tutto, perché qualsiasi strumento, qualsiasi software si è potenziato in modo veramente imprevedibile. di tutto questo, con questo voglio fare una piccola critica, a volte i giornali mettono a fuoco altre cose, di tutto questo nella stampa generalista e molto spesso anche nella stampa specializzata non si è parlato. Si è parlato, invece c'erano tre parole magiche. NFT, blockchain, metaverso. Allora, dire che ci sarà una rivoluzione nell'arte grazie agli NFT e al blockchain, insomma, è un azzardo non da poco. Sono strumenti utili, però l'arte probabilmente ha bisogno anche di altro. Dire, parlare del metaverso come fosse già presente, ogni azienda, ogni grande azienda internazionale tira la sua copertina dalla propria parte, però siamo ancora veramente agli albori. È un entusiasmo, a mio avviso, esagerato dal momento che prima dovrebbe esserci dovrebbe esserci una definizione consensuale, una descrizione coerente, soprattutto dovrebbero essere valutati i limiti delle tecnologie e delle infrastrutture di comunicazione oggi a disposizione. Invece, quello che è cambiato sono appunto questi nuovi software che in tutto un relativo silenzio dei media sono delle applicazioni formidabili in grado di permettere la creazione e l'animazione di umani digitali altamente realistici, per non parlare delle architetture, dei panorami, dei biomi di qualità cinematografica. Ma soprattutto, sono venute ad aprirsi, prima in modo contingentato, proprio ci volevo un permesso speciale, sono venute ad aprirsi quelle applicazioni che vengono classificate come text to image. Di cosa si tratta? Si tratta di un dialogo testuale, si introduce un testo, un suggerimento prompt, una didascalia e uno dei modelli, dei grandi modelli fondativi di OpenAI oppure di Google, eccetera, ti restituiscono delle immagini di qualità artistica o di qualità addirittura fotografica. Qualcuno dice che la fotografia è morta, ma questo l'aveva detto forse Baudelaire molto tempo fa, dicendo che l'altra è morta, io credo che le cose vanno un po' tenute, un po' con prudenza. E comunque restituiscono una illustrazione del testo introdotto. Tutto questo software è esploso, soprattutto nelle ultime settimane, ma questo sì, ne avete sentito parlare senz'altro. Bene, l'opera di Mattia Casalegno e Maurizio Martuscello non potevano tener conto di questo nuovo panorama tecnologico, no? Come delle fondamentali collaborazioni che sono state realizzate con il sapiente utilizzo dei droni, che è stato realizzato attraverso la fotogrammetria, la digitalizzazione in 3D di tutto il teatro verde. L'avete vista, quella è completamente digitalizzata proprio grazie ai droni di Factum Arte. E poi avete visto anche le affascinanti creazioni di Amin Farah, che è un 3D artist specializzato nella digital fashion. Forse è stato uno dei primi, adesso penso che ce ne saranno altri, però uno, senz'altro, un pioniere in questo campo. Tuttavia, sarebbe un grosso erroro considerare che questa opera audiovisuale sia una mera spettacolizzazione delle novità tecnologiche. E ancora più, qui, il frutto di una rigorosa progettualità, di uno storyboard deciso fin da gennaio, diciamo che si sono lasciati trascinare da quello che hanno potuto avere in mano e constatare con i loro occhi. Le fonti sono state di due tipi, praticamente. Da una parte, la consultazione degli archivi dell'Istituto per il Teatro e il Melodrama della Fondazione Cini, che ha messo a disposizione le immagini relative ai costumi dello spettacolo sul mito greco del Minotauro e quelli sui spettacoli e bozzetti delle opere goldoniane e della Commedia dell'Arte. Ma ancora di più di tutto questo materiale, ancora di più di tutto questo, la spinta creativa è venuta da loro, dalle emozioni che hanno provato visitando, prima che iniziassi il restauro, il ventre del teatro, soprattutto i camerini, i costumi di scena, le maschere impolverate, l'eco dei fantasmi che ancora riverberava per raccontare ciò che era stato rappresentato. E soprattutto i personaggi che pretendevano di essere ancora i protagonisti della nuova scena. Queste sono le fonti alle quali si sono sperati i due artisti nel creare la maschera del tempo. Fra questi personaggi, il più incontenibile ne poteva essere altrimenti, è stato il Minotauro. E con lui la sua storia, il racconto della complessità della sua genesi. Mi scuso, senz'altro molti di voi conoscono tutta la storia di questo capitolo della mitologia, ma brevemente lo riprendo. Insomma, la mitologia parla di Minossere di Creta che, quando diventa re, innalza questo altare per omaggiare Poseidone e chiede al Dio stesso di inviargli un toro. Poseidone gli invia un toro bellissimo, bianchissimo, e Minosse, quando lo vede, decide che non era il caso di sacrificare quel toro e ne sacrifica un altro. Naturalmente Poseidone si arrabbia e come per vendicarsi cosa fa? Fa sì che Parsifai, che è la moglie di Minosse, si innamori del toro e desideri accoppiarsi con questo. Però occorre uno stratagemma. E lì c'è Dedalo, che era scappato da Atene perché sembra che avesse ucciso il proprio assistente perché era invidioso della sua bravura. e Dedalo, scultore, architetto, inventore, che da Atene appunto era scappato, cosa fa? Gli costruisce una vacca di legno vuota all'interno e la ricopre di una pelle che risulta gradevole al toro. Così ha l'uovo l'accoppiamento e da questo la nascita del Minotauro che creerà qualche piccolo problema, tanto che Minosse decide di relegarlo all'interno del labirinto costruito da Dedalo stesso. Qui, come avete visto, all'interno di questo ventre ci sono due scene. Tra la prima e la seconda addirittura c'è qualcosa che richiama il canto delle sirene. Qui è molto bravo Maurizio Martuscello a ricreare questo suono che un po' riproduce lo spirito di Odisseo. E veniamo attirati all'interno di questo ventre del teatro e lì troviamo Dedalo, in abiti sacerdotali che governa con i suoi assistenti di laboratorio, un laboratorio ipertecnologico in grado di costruire nuovi idoli, avvalendosi di robot, di stampanti 3D, di biotecnologie, perfino di console per i videogiochi. Se avete notato c'è una lunga fila di bucrani che non sono più lì a testimoniare come allora si faceva il fatto che si hanno compiuti degli sacrifici per omaggiare le divinità. Ma è una produzione seriale, inducono lo spettatore a percepire che è in corso la produzione di oggetti sacri e macchinari che hanno a loro volta una vita al di fuori della natura. Come la vacca ingannatrice, realizzata con un dispositivo che è simile a una stampante 3D e alla superficie della quale viene iniettata dai robot una sostanza per farla apparire viva. Questo scenario non dovrebbe sorprendere il rapporto che Dedalo aveva con la tecnologia non è legato solo alle ali che ha costruito per il figlio. Infatti lui inventò gli agalmata, statue divinità che avevano gli occhi che si aprivano e anche si muovevano, dei veri propri proto-automi. Allora, questa è una chiave di lettura, probabilmente la chiave di lettura principale. Ma le citazioni sono molteplici, in tutte le scene ci sono rimandi molto interessanti. Ad entrarsi in queste interpretazioni, in simbologia esoterica, significati, significanti è un esercizio stimolante che potete fare benissimo tra di voi quando riguarderete questo video che dal 8 ottobre sarà online. Allora, potete farlo, io penso, partendo da questa natura post-antropocentrica che c'è all'inizio, fino alla scena in cui le maschere goldoniane ci guardano aspettando da tutti noi probabilmente una risposta. Una risposta alla domanda che cosa si vuole fare di questo meraviglioso teatro verde. La scena conclusiva è una scena che sembra fuori luogo apparentemente mentre invece ha una sua funzione. La scena è una citazione di un gruppo statuario che si trova al Museo archeologico di Napoli, il Man, città natale dei due artisti che oggi hanno rispettivamente lo studio a New York e a Londra. Si tratta del toro di Napoli o toro farnese che è stato scoperto nei primi decenni del Cinquecento e poi trasportato a Napoli dai Borboni. È un grandissimo gruppo marmoreo e questo gruppo praticamente risale al... qualcuno dice il secondo secolo avanti Cristo, qualcun altro dice il terzo secolo dopo Cristo. Rappresenta un gruppo di giovani che ferma un toro. Dal momento che questo viene ripreso anche dalla statuaria natalizia di Napoli si può dire che ha un valore identitario per i cittadini napoletani. Nella maschera del tempo, se avete notato, non c'è più il toro. Non c'è più il toro e quindi non c'è più il rischio solidale, questo sforzo collettivo fatto dai giovani. Ma sono rimasti i giovani. Uno di loro ha uno smartphone in mano, un altro si fa un selfie, un altro tiene una sfera con delle... istoriata con dei simboli esoterici. Sostanzialmente una graffiante ironia che i due artisti ci hanno voluto dare attraverso la maschera del tempo quando si sono trovati... perché hanno sempre lavorato uno stando a New York, uno a Londra e alla sera lavoravano e intanto durante il giorno facevano i loro pezzi, i loro compiti per casa e poi alla sera si fondevano questi lavori. Ma c'è stato un periodo, il primo periodo in cui hanno lavorato per una decina di giorni assieme ed erano a Napoli tutti e due. e quindi è interessante questa, diciamo, questa nuova statuaria che hanno creato, questo gruppo statuario. La genere del Minotauro è quindi il filo conduttore di una narrazione che ha come vero protagonista il teatro verde. Attraverso una sua trasfigurazione gli autori vengono a distinguere il fuori, ormai fagocitato da una natura che si è definitivamente ribellata all'antropocentrismo. Il sotto, il ventre, cupo, brulicante di attività come una operosa officina infernale. Il sopra, la parte trascendente dove troviamo la società, le maschere di Allecchino, Pulcinella, Colombina che indossano i meravigliosi abiti di Amin Farah. Permettetemi di concludere con una breve riflessione sull'arte digitale. Secondo il mio punto di vista, l'arte digitale non è fatta di meme, di NFT, di simpatiche ambientazioni, di pupazzi che si muovono goffamente nei proto-metaversi, di Roblox, Decentraland, Minecraft. A mio giudizio tutto questo, per ora, è poco interessante. Una conferma di questa mia convinzione l'ho avuta quando Glenn Marshall con The Crew ha ricevuto il premio a Cannes per il miglior short film. Stiamo parlando di autori che lavorano con l'intelligenza artificiale. Ma anche all'inizio di questo mese Rashad Newsom con Bang e Mark Erich con Absence sono stati premiati ad Arsa Elettronica. E ancora è in corso un ciclo di complesso di narrazione di Jan Chen a Berlino dal titolo Life of Ter Bob. Bene, tutti questi artisti si sono affermati con opere impegnative realizzate grazie agli strumenti messi a disposizione dell'intelligenza artificiale. Ora, la collaborazione creativa tra umani e intelligenza artificiale promuoverà senz'altro una rivoluzione fondamentale con profonde implicazioni sociali, economiche, tecnologiche, artistiche e il panorama muterà ancora di più quando i visori e le tecnologie di comunicazione permetteranno di usufruire delle ambientazioni in virtual reality, mixed reality, eccetera. quindi l'arte digitale è un nuovo media in rapida evoluzione che usa l'immagine elettronica ma che attinge alle stesse fonti alle quali si è sempre ispirata la nostra grande arte, ai miti, alle allegorie, alle metafore per rappresentare una società e un ambiente che stanno cambiando velocemente e purtroppo non sempre in meglio. Lo stupore lo stupore è creato dei linguaggi elettronici è una chiave che permette di comunicare a un pubblico molto vasto, popolare, fatto soprattutto di giovani nativi digitali, abituati alle immagini elettroniche degli smartphone, dei mobile, dei grandi pannelli apposti nei palazzi commerciali. Lo stupore è un ingrediente di un linguaggio ormai universale ma non può essere fine a se stesso. È solo una scorza di un frutto che per maturare ha bisogno d'altro, ha bisogno di altra linfa. Ecco, con l'intelligenza artificiale si possono creare velocissimamente, istantaneamente delle immagini sorprendenti, spettacolari, accattivanti. Tuttavia, quando un artista come uno spettatore del resto inizia a pensare oltre i confini della tecnica, oltre lo stupore, a pensare al riverbero emotivo, all'esperienza culturale della grande arte, beh, l'intelligenza artificiale da sola non è all'altezza di un essere umano. Non è senziente. Per ottenere, non so, qualcuno può anche non essere d'accordo, però, per ottenere qualcosa di significativo occorrono artisti veri che lavorino in modo simbiotico come Mattia Casalegno, Maurizio Martuscello e a loro, aggiungo senz'altro, a Min Farah. Grazie. Allora, adesso... Salve a tutti, ora praticamente non c'è più niente da dire perché ha detto tutto a Ennio, quindi, no, vorrei sempre aggiungere i miei ringraziamenti alla Fondazione Scini. e un'altra volta, ovviamente, al nostro curatore Ennio, nostro, ma della Fondazione anche Ennio Bianco e Chiara Casarin è la responsabile di sviluppo culturale e comunicazione. Voglio anche ringraziare ovviamente Maurizio e Amin, ma anche voglio ringraziare anche questo co, come avete visto, diciamo, dai titoli di coda. abbiamo lavorato pure con il Dipartimento di Animazione del Pratt Institute che è l'Università d'Arte di New York. Niente, io insomma non voglio aggiungere tantissimo altro perché secondo me abbiamo già, diciamo, aperto a qualsiasi cosa e ero vistato un po' dovunque nel lavoro e mi piacerebbe comunque pensare al lavoro come se avesse una vita sua. Quindi in effetti se c'è delle domande o anche Ennio se c'è delle domande noi siamo sempre molto felici di rispondere e siamo qui a posto ovviamente. Però diciamo veramente molto breve quanto mi riguarda questo lavoro è un lavoro quasi fatto con le mani in un certo senso è molto artigianale e anche se riprende dallo stile un po' dell'animazione in effetti non è un'animazione perché se poi vediamo le scene e anche i personaggi che vivono questo mondo sono completamente immobili quindi l'unica cosa che si muove è la videocamera quindi è un colavoro diciamo è quasi forse una non animazione in un certo senso e niente insomma io non voglio aggiungere altro in verità quindi ma ovviamente siamo contentissimi di rispondere a qualsiasi domanda che che potete darci si diciamo che se avete qualche domanda ci aiutate sicuramente mi accodo a Mattia per i ringraziamenti non li rilenco ma appunto sono stati fondamentali per la creazione di questa opera di questo lavoro insomma loro ci hanno tenuto tanto e noi siamo stati veramente contenti di essere stati invitati è stato un lavoro molto suggestivo molto una grande fascinazione la nostra visita perché via e da lì parte come abbiamo detto è da lì che parte il tutto partito proprio dall'essere sul campo quindi quasi un lavoro direi archeologico e ciò che rimaneva del teatro che anzi era già in una fase di di restauro cioè si stava lavorando nel disturbare il teatro e quindi già c'era la luce che il teatro prendeva ci dava la sua luce ci dava i suoi echi i suoi rimandi sia nel in ciò che che l'aveva in qualche modo che l'aveva vissuto e quindi poi l'intelligenza artificiale la tecnologia sì noi ne siamo in qualche modo ce la pratichiamo ma non è uno strumento cioè anzi dire non è lo scopo del lavoro sono semplicemente degli strumenti è come se prima si poteva lavorare solo con un clavicembolo oggi c'è la possibilità di lavorare con altri strumenti resta sempre come dire la la componente fondamentale potremmo avere uno stradivari ma se non abbiamo paganini uno strumento non suona e quindi io credo che il processo rimanga lo stesso non è non vogliamo assolutamente questo che Mattia sia d'accordo con me ma non ce lo siamo mai proprio non l'abbiamo mai pensato lo dico posso dirlo anche a nome di Mattia perché insomma lavoriamo insieme da vent'anni e se non ci fosse questo connubio fondamentale cioè fondamentale c'è un'intesa è vero che è stato molto faticoso perché eravamo in due posti del mondo diversi quindi direi che più è lavorare di sera abbiamo lavorato di notte e questo ci dava un po' di problemi nella vita quotidiana per il fuso orario però l'intesa è stata sempre come dire forte su ciò che si voleva fare e mai ci siamo abbandonati ad una come dire a qualcosa che fosse come si può dire spettacolare ma l'idea era di entrare proprio nel vivo di ciò che era stato il teatro e quello che aveva significato per noi perché poi l'abbiamo scoperto l'abbiamo scoperto insomma frequentando questo luogo questa è la cosa molto bella cioè che oltre al supporto produzione diciamo cura ma la possibilità di essere qui noi siamo stati qui siamo stati per dei periodi qui quindi la possibilità di di vivere proprio il teatro di scendere nei camerini di stare di prenderne tutta la come dire di cappattarne tutta la la sua essenza tutta la sua voce tutto il suo reverbero questo è stato come dire proprio fondamentale cioè non avremmo potuto fare niente di quello che insomma siamo abbiamo avete visto stasera se non ci fosse stata questa questa empatia con un luogo l'abbiamo sicuramente è stata una cosa no da sempre cioè era come un tempio cioè noi l'abbiamo visto come una risco come come si poteva come i vecchi esploratori ritrovavano una tomba una tomba egizia cioè abbiamo voluto infatti poi l'essenza viene fuori credo spero nel vedere tutto il lavoro che è una riscoperta che siamo sotto una fucina piena di significanti piena di simboli che abbiamo tutto ritrovato qui quindi questo è il lavoro diciamo per competenze diverse ma appunto assolutamente sinergiche tra me e Mattia che da sempre lavoriamo uno qualche volta si occupa più della parte immagine nell'altro si occupa più della parte suono e ci tengo a dire che questo è suono non è musica perché la musica si organizza in modo diverso introduzione sviluppo finale qui non c'è qui l'idea è la prima cosa che ci siamo detti come far sì che il suono diventi immagine e l'immagine diventi suono quindi questa è stata una sfida che ci abbiamo provato e speriamo di essersi riusciti ma non è un quindi è un tutt'uno imprescindibile non è una colonna sonora non è un'immagine suono ma è tutto insieme cioè cammina proprio in un'intersezione costante e poi appunto ci siamo chiesti come dire la problematica sui costumi quindi come fare del fashion come entrare anche in quello che oggi è contemporaneo no? abbiamo la prima rappresentazione di noi in base a come ci vestiamo quello è il primo impatto che vogliamo dare agli altri e allora il lavoro è diventato ancora più ampio cioè c'è Amin che è stato è stato ha preso parte del progetto ma ci sono tantissimi altri che noi non abbiamo citato appunto Mattia parlava di tutta la scuola per esempio del Pratt di New York ci sono stati collaboratori per quanto riguardava tutta la parte del suono quindi finalizzazione e masterizzazione c'è un lavoro complesso fatto di tante persone che purtroppo non sono qui ma che a noi piace cioè senza di loro non avremmo potuto sicuramente realizzare questo lavoro se avete delle domande se no Amin se vuoi dire qualche cosina anche tu salve a tutti se prima c'era poco da aggiungere adesso proprio non c'è più nulla diciamo è stato detto tutto i risultati li avete visti diciamo di questa collaborazione tutta la problematica che ci siamo posti su come rappresentare le maschere coldomiane in una visione del 3000 cioè di come l'avremmo potuto vedere nel 3000 è stata insomma una problematica di tanti incontri con te no infatti magari i due parole che posso spendere sono legate al processo no? come si è arrivati ad un punto fin dal primo momento in cui mi è stata sottoposto mi è stato sottoposto da Mattia all'idea del progetto mi è stato raccontato degli spazi del tempo no? in cui tutto questo verrà ambientato i soggetti che dovranno essere diciamo così vestiti no? e quindi trovarmi in questa di nuovo veste da sartoriale ho subito trovato un fortissimo interesse o comunque sono andato subito in risonanza con il gioco no? di reinterpretare le maschere in una chiave moderna una chiave talmente moderna talmente futuristica che ha quasi fatto il giro ed è tornato indietro no? dove magari come nell'esempio di Arlecchino i tessuti sono costruiti con biomateriali materiali come muschi elementi del genere talmente controllati no? dall'uomo che possono servire no? e vivere allo stesso tempo in un equilibrio simbiotico e questo è solo uno degli esempi e per ognuno dei diversi personaggi è stato studiato un un medium uno stile che potesse comunque sia sia rispecchiare o nelle forme o nei colori o anche semplicemente della maschera o ecco nella proprio nella tipologia di tessuto ognuno delle personalità dei diversi caratteri del teatro un'altra cosa molto interessante è il fatto che ho avuto la possibilità di poter stare in prima fila sempre in prima fila nel vedere l'approccio progettuale da parte di Maurizio e di Mattia che come ha anticipato è sinestetico abbiamo l'immagine che diventa musica e la musica che diventa immagine creare ponti dove prima non ce n'erano ma soprattutto avere piacere di fare questi percorsi di fare questi processi e non arrivare subito al risultato cercare comunque sia sulla base della tecnologia e sulla base dell'obiettivo a cui si vuole andare di definire delle strade e penso sia questa la cosa più bella di un viaggio il percorso non tanto il punto d'arrivo grazie domande signori se non ne avete abbiamo il balletto con il microfono abbiamo detto veramente tutto grazie a tutti 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 grazie a tutti